Ben trovati con le nostre previsioni meteo, clima ballerino oggi con bel tempo e sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni di pioggia. Crollano ancora le temperature che per tutta la durata della giornata saranno di 12 gradi per la massima e 3 per la minima. I venti saranno forti. Grazie per l'ascolto. Torniamo domani con le nuove previsioni meteo.